Il centro Italia tutto ma principalmente le regioni che si affacciano sulla costa sono da ieri sotto lo scacco del vento di burrasca forte con venti fino a 90 km all'ora lungo tutto il litorale come recita l'avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla protezione civile delle marche. Chiamati a fronteggiare le conseguenze di questa situazione ovviamente le squadre dei Vigili del Fuoco che alle 10 avevano ancora 80 chiamate da evadere in tutta la regione e 90 gli interventi invece effettuati tra rami pericolanti, tettoie di velte, guaini isolanti staccati e cadute di calcinacci. Anche nella nostra provincia a Pesero, Fano e Urbino non si contano gli interventi effettuati anche oltre che dai pompieri per rami pericolanti o rami sulla sede stradale anche da parte della protezione civile dalle squadre comunali e di Anas oltre che quelle provinciali per i tratti di loro competenza come lungo le strade provinciali 32 in località Monbaroccio, la 26 nei pressi di Cartoceto e a Monte Ciccardo lungo la 57. Ma probabilmente il costo più alto per i danni lo ha subito il comune di Sant'Ippolito dove due grossi tronchi di un altissimo pino si sono staccati crollando sui padiglioni del cimitero cittadino causando danni alle coperture per diverse migliaia di euro. Fortunatamente però non si registrano persone coinvolte oltre che lungo la strada provinciale 77 al confine col comune di Barchi dove un grosso cipresso si è abbattuto all'altezza del civico 17 mettendosi di traverso lungo la strada ostruendola completamente ma grazie al pronto intervento di una ruspa attivata dal comune la viabilità è stata ripristinata in pochi minuti. Nel comune di Terra Roveresca nel borgo di Orciano il parabrezza di un appunto parcheggiata è stato centrato da un grosso mattone caduto dal tetto che lo ha sfondato. Fortunatamente a bordo dell'auto in quel momento non c'era nessuno e sempre a Orciano il vento forte ha sradicato una grossa pianta vicino alla sede stradale a Fano poi lungo la strada che porta a Carignano piante e rami lungo la strada come nei pressi anche della frazione di Caminate. Ma i danni del vento si sono estesi anche alle strutture come a Carrara dove la copertura di una casetta è stata fortemente danneggiata o nei pressi del Codma di Rosciano dove alcune strutture sono state abbattute dalle raffiche di vento. Stessa sorte è toccata anche alcune segnaletiche stradali che sono state messe a terra in località Falcineto. Nella regione la linea ferroviaria Ancona-Roma nel tratto del comune di Rosora ha subito rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. Questa mattina poi un uomo è rimasto ferito a causa della caduta della guaina di una copertura di un tetto in via dei Sabini e da Scolipiceno soccorso subito dal 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in condizioni non gravi. A Tolentino invece i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un'impalcatura pericolante. E in giornata si registra anche un secondo ferito nelle Marche a San Severino in località Marciano. Un grosso pioppo è caduto a terra colpendo un'auto di passaggio il cui conducente è rimasto ferito. Fortunatamente l'impatto con il mezzo, un fuoristrada Isuzu, è stato attutito dalla scarpata su cui il pioppo è caduto prima di centrare il veicolo. Il conducente comunque è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale.